Sono 636 in campagna e casi positivi al covid nelle ultime 24 ore su 22.925 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di contagio che ieri era pari al 2,74 ed oggi è al 2,77%. Quattro i decessi. Negli ospedali calano a 16 ricoveri in terapia intensiva e anche indegenza dove oggi sono 244. La campagna accelera sulla terza dose. Secondo il cronoprogramma è previsto il nuovo richiamo anche per chi fa lavori più esposti come insegnanti e forze dell'ordine alla scadenza dei sei mesi dalla precedente vaccinazione. Dopo aver somministrato la terza vaccinazione agli ospiti dell'RSA, agli anziani e ai soggetti fragili, ora i riflettori sono sul personale sanitario, poi sul personale scolastico e forze dell'ordine. La campagna, fanno sapere dagli uffici di via Santa Lucia, ha avvisato la struttura del commissario Figliuolo dell'attenzione alla scadenza dei sei mesi. È stato prerogato intanto fino al prossimo 31 dicembre su tutto il territorio regionale l'obbligo di indossare le mascherine anche all'esterno. Lo ha disposto il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca con un'ordinanza firmata ieri. L'obbligo della mascherina per contenere il diffondersi del virus scatta anche all'esterno laddove si legge nell'ordinanza si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale.